Il ritorno di Cristo, la seconda venuta detta secondo avvento, dal greco parousia, visita ufficiale, arrivo, è nel cristianesimo la ferma certezza nella seconda manifestazione di Gesù, in un tempo imprecisato, a seguito della quale verrebbe portata a compimento la completa redenzione del mondo. Si tratta di una consapevolezza che ha attraversato tutta la storia del cristianesimo fino al periodo attuale ed è stata oggetto di studi sia teologici che antropologici e sociologici. Nel Nuovo Testamento Gesù disse come la folgore viene da Oriente e brilla fino a Occidente così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vangelo secondo Matteo 24 versetto 27. Il Nuovo Testamento vede il ritorno di Cristo del Messia come l'evento conclusivo della catastrofica fine del mondo annunciata da molti segni premonitori, vedi Marco 13, cioè come la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi con grande potenza e gloria, Marco 13, 26, quindi come discesa di Gesù Cristo dal cielo preceduto dall'adunamento sulle nubi con lui di tutti i suoi, prima Tessalonicesi 4, 16, definita la prima risurrezione ed è la celebrazione stessa del giudizio escatologico. Questo evento glorioso, che include diversi avvenimenti, segna il culmine dell'attesa della Chiesa cristiana da sempre, definita la beata speranza e la gioia dei credenti al suo incontro. La seconda venuta pertanto realizza in questo modo l'adempimento del Messia vittorioso profetizzato nell'Antico Testamento. L'Apocalisse di Giovanni descrive le vicende escatologiche in modo più articolato rispetto ad altri testi del Nuovo Testamento, in un linguaggio ricco di simboli, allegorie e figure. Secondo questo libro, sulla terra verrà instaurato il regno di Dio, Apocalisse 19, 6, in cui il suo verbo, cioè Cristo, sconfiggerà il male e, assieme ai suoi, governerà con scettro di ferro per mille anni. Al termine di questo periodo seguirà l'ultima battaglia contro Satana e il giudizio finale, per mezzo del quale sarà eliminato il male per confluire finalmente nel mondo nuovo, dove i salvati, soltanto loro, godranno la vita eterna alla presenza di Dio e di Cristo, in una beatitudine senza fine.